buongiorno a tutti da anna e otto benvenuti nel nostro angolo verde oggi vi parlerò della pianta delle farfalle la magnifica budleia chiamata così per i suoi fiori che emanano un profumo irresistibile per le farfalle collocando diverse piante di budleia potremo avere un giardino ricco di profumi e colori fiorisce a lungo con i fiori color crema rosa azzurro e viola dalla primavera all'autunno si adatta bene ad ogni tipo di terreno purché in posizione soleggiata per aiutare lo sviluppo della pianta e la sua fioritura consiglio un concime organico io uso fiore vivo tercomposti ricco di torbe bionde che conferiscono a questo terriccio professionale una elevata ritenzione idrica ideale per sostenere la crescita delle piante anche nei periodi più caldi dell'anno come tutti i prodotti tercomposti lo trovate nei garden center e nei negozi specializzati bisogna poi effettuare una putatura subito dopo la fioritura togliendo tutti i rami secchi in giardino può essere coltivata come singolo esemplare o come siepe anche in vaso resiste bene purché il contenitore sia capiente io otto vi diamo un consiglio non rincorrete le farfalle ma fate sì che le farfalle vengono nel vostro giardino quindi piantate la budleia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.